Anani, Crosinone, Santa Maria Annunciata, interno. L'interno è a tre navate, costruito da maestri Comacini. Pregevolissimo è il pavimento a mosaico eseguito nel 1231 dalla celebre famiglia di marmorari romani, i Cosmati, da cui appunto pavimento cosmatesco. Nell'abside maggiore possiamo ammirare tre opere pregiate del Vassalletto, del 1263, e cioè una bellissima colonna tortile mosaicata per il candelabro del Cero Pasquale, la Cattedre Episcopale e il Ciborio che copre l'altare. Tutte opere volute dal Vescovo Landone. La Critta, poi, è uno splendore di affresti straordinari, molto conosciuta, non lo scopro certo io, e meta di turisti da tutte le parti del mondo. Fu costruita contemporaneamente alla Chiesa Superiore e i lavori finirono attorno al 1104. è conosciuta come la Cappella Sistina del Medioevo. è un mirabile intreccio di archi romanici sul pavimento cosmatesco originale e di splendidi di affreschi che ricoprono una superficie di 540 metri quadri. Rappresenta la storia della salvezza dell'uomo dalla sua origine al giudizio universale. potrei certamente soffermarmi di più nella descrizione di questi capolavori straordinari. ma voglio lasciarvi il tempo di guardare con tranquillità le immagini. scappositi da tutte le immagini, con tranquillità le immagini che voglio lasciarvi il tempo di guardare con tranquillità le immagini. Cappella Sistina del Medioevo Grazie a tutti. Grazie a tutti.